domani anche a Roma ci incontreremo anche con la proprietà per significare quelle che sono le nostre esigenze quindi per noi è prioritario ovviamente l'ambiente che è la salute e il bene più prezioso che abbiamo ma è anche importante che nessun operaio resti a casa ogni singolo esubero è un dramma per ogni famiglia, mutui, rate, figli a scuola e quant'altro e quindi non ci possiamo permettere neppure un esubero l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocci Marro ieri sera in consiglio comunale nel corso di un'audizione cui ha partecipato anche l'assessore al lavoro Alessia Rosolene ha ribadito ancora una volta l'impegno e l'attenzione della giunta regionale per quel che concerne la ferriera precisando inoltre una serie di ulteriori questioni ho confermato quello stato l'impegno profuso da marzo ad oggi passato per gli atti ufficiali di scambio di lettere fatti in agosto in cui la fabbrica per la prima volta accettava quelle che erano le desiderate della giunta regionale cioè la riconversione, decarbonizzazione dell'aria caldo in industria pulita ed in logistica il responsabile regionale dell'ambiente non nasconde la sorpresa qualche mese fa per l'accelerazione delle procedure da parte dell'azienda sottolineando una volta di più la strada che la regione ha scelto di percorrere questo è un percorso che io ho ipotizzato in tempi un po' più lunghi 2020-2021 ma la fabbrica ha avuto un'accelerazione in questo noi ci sentiamo di non essere perfettamente d'accordo perché i tempi del pubblico non corrispondono a quelli del privato che prevedono anche una ricollocazione e un esubero zero una strada che stando a Scocimarro consente di guardare già ad una data per la chiusura dell'alto forno l'assessorato dell'ambiente della regione è sempre stato operativo in questo momento è in contatto con i ministeri con la proprietà affinché ci sia un nuovo contratto un nuovo accordo di programma che prevede appunto la riconversione e le autorizzazioni che ci smettano lì saremo molto veloci ma bisogna coordinarci con tutti quindi la data di chiusura dell'alto forno è presumibile nel corso del 2020 grazie 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 a tutti